Dopo il riposo forzato dalla neve, torna in campo domenica alle 14.30 il Ravenna Football Club, ospite dell'Albino Leffe. Gli orobici, che fino a novembre erano stati tra i protagonisti del campionato, ora si trovano ai margini della zona playoff e cercheranno un successo ottenuto soltanto una volta nelle ultime 12 giornate. Per i giallorossi, che devono vendicare lo 0-1 subito al Benelli all'andata, si tratta di un'occasione per prolungare la striscia positiva aperta con il Pordenone, cogliendo la sfida salvezza lanciata domenica scorsa dal Teramo, che in una delle sole quattro partite disputate nel weekend ha clamorosamente spugnato il campo della capolista Padova.